La violenza sessuale su minore è l'accusa contestata al parroco della chiesa di Santo Spirito nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Don Riccardo Seppia, 51 anni, sacerdote dal 1985, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del NAS di Milano. Per il rischio di una ripetizione del reato, emerso, secondo quanto si apprende, dopo un'indagine su un giro di droga, il giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza di custodia. Rabbia e incredulità tra i fedeli di Sestri, Don Riccardo è insieme a loro dal 1996. Ed è proprio in questa parrocchia che nel pomeriggio l'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, ha celebrato in via straordinaria la messa. Sconcerto e dolore ha espresso il capo dei vescovi, le ipotesi di reato che andranno verificate, ha letto Bagnasco in un messaggio, riguardano comportamenti immorali su un minore, eccessione di sostanze stupefacenti. Per questo il parroco è stato sospeso da ogni ministero pastorale e atto sacramentale, come previsto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dal responsabile della diocesi, vicinanza fraterna alle eventuali vittime e ai familiari, e piena fiducia nella magistratura.